allora buonasera a tutti benvenuti il quinto grazie il quinto concerto di del festival questa sera vede un ospite fantastico un pianista eccezionale ve ne accorgerete ve ne accorgerete sicuramente e quindi stasera finalmente credo per la prima volta a latina non so se dico una cavolata però mi sa che dato non ha mai suonato comunque dai chiamiamoli qui sul palco insieme a lui ci abbiamo Nicola Angelucci alla batteria Nicola Angelucci andiamo Nicola e Luca Alemanno al contrabbasso al fagiolino chiamiamo sul palco Dato Moroni Dato Moroni eccoci buon ascolto grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti